La guerra è ovunque. I nani combattono una lotta disperata contro i selvaggi pelle verde. L'impero è sotto l'assedio delle armate del caos. Intanto, al di là del grande oceano, gli elfi oscuri assaltano l'isola di Uthuan, dimora degli alti elfi. Messi di fronte a morte certa, elfi, umani e nani si uniscono per formare un'alleanza delle forze dell'ordine. Se falliranno, le forze della distruzione conquisteranno ogni cosa. Questa è l'alba di una nuova era, in cui il destino di intere nazioni sarà forgiato nel fuoco della guerra. Questa è l'era del giudizio. Questa è laczy Questa è la cosa. Questa è l'alba di e me. Questa è l'alba di e rfferci다. Sì! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.